ecco questo costaranno tutti in questa maniera questo è buono questa è buona 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 come l'ho fatto? la piccola è buona prendi la piccola la russa è buona questa è il led questa è buona non ci mette non lo so 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 ma chi si Non lo conosco, non lo conosco. Stai un po' fiuto. Vediamo che sta facendo. Laica, che c'è? Laica. Buon appetito, laica. Com'è? Com'è l'Italia? E' di 2 gradi mento. C'è un po' di pepe, un po' di uglia, un po' di sciatto. Chiudi, ecco. Chiudi. E' un po' di uglia. E' un po'. È un po', laica. E' un po'... Il video ti ho fatto. Che c'è? E' un po' di uglia. Che ti ho fatto? Che dici Massimo? Massimo ripetici. E' un po' di uglia. In che assenza? non faccio ripeto l'uomo di uno che mi capisci guarda fra poco che c'è di posteggiamento ma la fai vedere è un po' di duro bella ma è quanto bella ma sono meno amici che ho un muzzo che è ancora è stato di buono bravo ok bella palletta grazie giù che l'avete fatto trattare giù che ti fa il vetro vieni a vedere chi è l'atto giù che l'avete fatto trattare giù che l'avete fatto trattare giù che l'avete fatto giù che l'avete fatto brava figlio